A questo punto, e niente, vi ringrazio ancora. Allora, come diceva all'inizio della Clara, come ha detto Maura, in realtà negli ultimi anni si sono presentati sullo scenario politico globale due grandi movimenti che si sono in qualche modo connotati in continuità con esperienze precedenti, però come esperienze che si muovevano già nello spazio politico globale. Il movimento per la giustizia climatica, il movimento di opposizione in realtà in senso più largo a tutte le varie crisi ecologiche e il movimento per il superamento del patriarcato. Un elemento, diciamo, consistente, forte, che spero che emerga dal nostro dibattito di oggi è proprio questo, cioè la questione che ciò di cui stiamo discutendo oggi è il risultato delle stesse identiche cause che hanno motivato questi due movimenti, che hanno motivato le lotte degli ultimi anni, è che le crisi accelerano i processi di trasformazione già in atto all'interno del capitale. Questo significa che la proposta che ovviamente sta emergendo in queste ore, cioè uscire dalla situazione attuale secondo gli stessi metodi, principi all'interno dello stesso sistema, ovviamente sarà il problema dei prossimi anni. Ciò significa che l'abitudine a vivere all'interno di queste crisi, che è ciò che ci viene chiesto in questo momento, è ciò che dovremo affrontare nei prossimi anni. Tutte e tutti. E se il mondo che viene disegnato da questo ennesimo livello di avanzamento della trasformazione del capitale è un mondo in cui l'abitudine allo stato di rischio estremo anche della propria esistenza deve essere costante, e dall'altro lato è evidente che questa abitudine coincide, come in questi mesi in realtà hanno detto molte pensatrici e molti pensatori, con l'idea che si debba iniziare a pensare seriamente a quali sono gli spazi che all'interno di questa esperienza vengono prodotti. Allora, come abbiamo già detto, siamo ancora qui, siamo qui in aperta continuità con l'esperienza del KAMAC, e il fatto che i principi solidaristici di funzionamento della biosfera non siano gli stessi del nostro sistema. La rottura di quello schema ha prodotto la situazione attuale e sta continuando a produrre il resto. La pandemia e la crisi climatica, che è in atto, certo non si è fermata, dimostrano anche come, già in maniera molto evidente, sia del tutto diseguale il funzionamento del sistema, ma sia diseguale anche le distribuzioni dei danni. La narrazione sul clima che migliora o sulla riduzione dell'impatto delle attività e delle metropoli è una narrazione occidentale e una narrazione da aree ricche. Non è migliorata in nulla la vita di chi vive nelle metropoli, nelle grandi metropoli del sud del mondo, nei grandi islam, nelle aree povere anche, comunque delle città che una volta erano delle aree forti. Ciò che cambia e può cambiare, di cui adesso chiederemo anche ai nostri ospiti di parlare, è proprio la capacità e la possibilità che all'interno di questo schema si aprano nuovi spazi e che si apre una specifica rivendicazione. Se le crisi accelerano i problemi, ciò che sta emergendo anche nella nostra esperienza, nel mio parere, locale, mettiamola così, è che quelle azioni che sono anche le azioni legate alla solidarietà, in prima istanza e poi alla costruzione di grandi battaglie, iniziano ad avere un potenziale concreto di sottrazione di spazi al capitale. Possono diventare in maniera concreta e precisa luoghi di confronto in cui iniziare a fare cose che sono state fatte in varie esperienze delle lotte nel sud del mondo, cioè di costruzione concreta, di nuove relazioni interne, ma anche di nuovi modelli. Allora, inizierai dando subito la parola a Raul Zibeki, vi conoscete, giornalista, militante, uno dei pensatori più interessanti dell'attito internazionale degli ultimi anni, a mio parere, coinvolto anche materialmente in tante lotte contro l'estrattivismo che ha sostanzialmente contribuito a definire come esperienza tecnica, anche come categoria, nei grandi processi di liberazione del sud. Da Raul ritengo a questo punto che gli abbiamo chiesto proprio di intervenire su questo legame e sulla situazione attuale.